Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi apriamo due pacchetti della nuova collezione di Tom & Jerry realizzata dalla San Carlo Le patatine sono le mini dixie, quindi non sono le classiche come spesso accade In ogni confezione una pallina rimbalzina, già vi ho presentato la collezione qualche giorno fa Comunque, rivediamoci tutto, un fantastico set di 6 palline rimbalzine Per rivivere le pazze avventure di Tom & Jerry Ecco qui la checklist ufficiale, noi abbiamo questa qui Speriamo di non trovare doppioni oggi, vai con il primo pacchetto Allora, vediamo un po' quale pallina rimbalzina troviamo all'interno di questo pacchetto Bene, ci manca, ci manca, ci manca, è quella verde con Tom, cioè sarebbe questa qui Eccola qua, bene, bene Bene, apriamo adesso il secondo pacchetto Carina questa collezione, è carina però ci dice un po' male Finora ogni volta che compro due pacchetti trovo sempre la stessa pallina rimbalzina in tutte e due Però comunque vada, la verde ci manca, quell'altra la scambieremo e ci prenderemo una pallina che non abbiamo Detto questo ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i video di tutte le collezioni delle palline San Carlo, Crick Rock, Salati Preziosi, ma anche tutti i video delle collezioni che escono nei Chiovetti Kinder E nelle altre parche, le collezioni che escono in edifico, da qui arriva tutto ragazzi Quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando In descrizione vi lascio anche il link delle pagine Facebook ed Instagram del canale Se volete seguitemi anche lì In descrizione trovate anche il link del blog E se volete fateci un salto E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video Ciao belli